Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Oggi vorrei dire due parole su un libro che ho appena terminato di scrivere. Il fondamentalismo hollywoodista. Viaggio in Iran alla scoperta dell'invisibile ideologia dell'Occidente. Che cos'è il fondamentalismo hollywoodista? Per capirlo dobbiamo innanzitutto renderci conto che non è vero che tutte le ideologie siano morte, così come si usa dire. Anche il mondo delle ideologie è probabilmente soggetto alla selezione naturale di Darwin. Alcune ideologie agonizzano, altre si estinguono, ma le nicchie ecologiche che si liberano vengono subito occupate da qualche nuovo arrivato. La natura abborrisce il vuoto. In molti casi assistiamo all'insorgere di piccoli culti più o meno strampalati, culti pseudorilugiosi o pseudoscientifici. Di solito rimangono confinati a quattro gatti e durano poco. Ma in altri casi compare un nuovo grande predatore, una super ideologia che in 448 si pappa tutto e tutti in vastissime porzioni del mondo. il paradosso è che più questa ideologia è vasta e più chiunque ne venga assorbito non la riconosce più in quanto ideologia. Quando ci si è dentro, l'ideologia infatti assume la forma stessa della realtà e tutto ciò che si trova al di fuori dell'ideologia diventa un'eresia. Quando la Chiesa perseguiva gli eretici era proprio perché per lei essi si collocavano al di fuori dalla realtà e così facendo mettevano in crisi per la Chiesa il concetto stesso di realtà. Per quanto possa suonare strano alle nostre orecchie, un fenomeno analogo è nato proprio ora ed il Vaticano, tra virgolette, di questa nuova ideologia e religione, i due concetti in parte si sovrappongono, è situato a Hollywood. L'Occidente oggi non si rende conto di essere ideologico, di essere profondamente ideologico, in effetti così ideologico da far impallidire le altre grandi ideologie del passato. no, non sto parlando del capitalismo, del liberismo e nemmeno della democrazia, queste sono tutte cosucce nel confronto con l'ideologia di cui sto parlando e di una certa misura ne sono parte addirittura. La grande ideologia della quale non siamo bene consapevoli di essere succubi in Occidente è l'ollywoodismo. Una parola nuova. Una parola nuova per un vero è proprio sistema completo di valori, di modelli di comportamento e di pensiero, di come ci si debba bigliare, cosa si debba mangiare, eccetera, eccetera. Insomma, un intero modello di realtà, alla quale in varia misura noi finiamo per credere. Ed è proprio chi non è consapevole della natura fideistica della fede che lo attanaglia, che men che non si dica si ritrova ad essere un fondamentalista, cioè qualcuno che crede ciecamente ai propri modelli di riferimento senza rendersi conto in nessuna misura della loro relatività. Ci piaccia o non ci piaccia. Siamo quindi tutti fondamentalisti hollywoodisti in Occidente. In vita nostra abbiamo guardato troppo cinema e troppa televisione americani per non esserlo. Alcuni lo saranno di più, altri lo saranno di meno, ma nessuno di noi sfugge. Da cento anni ormai Hollywood rappresenta l'immaginario occidentale all'interno dei propri prodotti cinematografici e così facendo lo costruisce, lo omogeneizza, ne stabilisce gli standard. Ma da quale momento in poi possiamo cominciare a chiamare questa attività di strutturazione dei nostri gusti consumi una vera e propria attività di manipolazione? Difficile da stabilire. Tuttavia c'è evidenza del fatto che negli ultimi decenni la cinematografia statunitense è sempre più traboccante di elementi di manipolazione di massa, chiaramente intenzionali. Li possiamo identificare, riconoscere, descrivere. E queste tecniche di manipolazione sono frutto di conoscenze straordinarie sui modi esatti nei quali le masse di persone possono venire condizionate. Il quadro è quindi quello di una lucidissima scienza di ingegneria sociologica, roba nuova, roba che non si insegna neppure nelle migliori università, a parte eventualmente qualche università militare della quale noi sappiamo poco o nulla. Di tutto ciò in effetti ignoriamo quasi tutto. Ma possiamo tuttavia scoprire e scoprire molto sottoponendo a rigorosa analisi i vettori di tale presunta manipolazione, cioè i film con cui Hollywood ci tempesta. Vogliono che guardiamo i loro film? Va bene, facciamo però un passo ulteriore. Oltre a guardarli, studiamoceli ben bene per capire esattamente che cosa contengano. Visto che qualsiasi cosa si tratti, poi ce la ritroviamo nei nostri cervelli. E questo è esattamente quello che ho voluto fare col mio nuovo libro, il fondamentalismo hollywoodista. Ho identificato undici tecniche principali di manipolazione che tipicamente troviamo in molti film di Hollywood. Nel mio libro assegno a ciascuna di esse un nome e ne spiego il funzionamento e anche le finalità. La seconda parte del libro poi consiste in una rassegna di film e serie televisive americane che io ho analizzato. Questo spiega perché mi ci siano voluti quattro anni per scrivere questo libro, uno non è che poi abbia voglia di guardarsi film americani tutti i giorni, tutto il giorno. Per ognuno di questi film e serie televisive elenco le tecniche di manipolazione che sono state utilizzate. Imparare infatti a conoscere i trucchi, le leve psicologiche che vengono utilizzate per influenzare la nostra mente è il primo passo per difenderci dalle intrusioni nella nostra testa e per riappropriarci quindi di noi stessi. In questo senso il mio è anche un libro di autodifesa, ma non è leggendo il mio libro soltanto, purtroppo è me che terremo la nostra mente al riparo dagli artifici degli apprendisti stregoni dell'hollywoodismo. Troppo, troppo potente è la loro potenza di fuoco, che va sistematicamente a colpire, e a stamparsi nei nostri inconsci. Tuttavia, bisogna pur iniziare da qualche parte se vogliamo avviare una guerra di indipendenza della nostra mente. Una guerra puramente mentale, viene inteso, dato che di guerra esclusivamente mentale si tratta. I gerarchi dell'hollywoodismo vogliono possedere, controllare la tua mente, così come quella di tutti gli altri. Ed il possesso si manifesta ogni qualvolta tu pensi nei termini da loro prefissati. e loro la tua mente già la posseggono, almeno in parte, anche se tu magari credi di no. Magari ogni tanto ti piace citare Matrix nei tuoi discorsi controcorrente, oppure film come V come vendetta, ma in questo caso è una brutta notizia per te. Amico mio, anche Matrix, anche V come vendetta ti sono stati iniettati in testa degli stregoni dell'hollywoodismo. Sono allegorie che hanno messo in circolazione loro. Non è farina del tuo sacco. E loro l'hanno fatto per te, per aiutarti ad esprimere meglio il tuo dissenso. Ed esprimendo il tuo dissenso negli esatti termini che essi hanno predisposto per te, tu dimostri di fare interamente parte del loro regno immateriale. E così facendo lo rendi più stabile e reale. Non ci credi? Pensaci meglio. Magari aiutandoti con la lettura del fondamentalismo hollywoodista. Non ci facciamo troppa illusione. Continuerai anche in seguito a citare Matrix, così come dopo tutto l'ho appena fatto anch'io. Chi è senza influsso dall'hollywoodismo scaglie la prima pietra. tempo. Ma perlomeno poi dopo lo farai con un più elevato senso di consapevolezza di cosa sia accaduto nella tua mente. La prima tappa di un cambiamento è la comprensione. Non ci sono altre vie. Dobbiamo capire perché noi pensiamo nel modo in cui pensiamo. E quali parti di questo processo siano state progettate a tavolino? Solo così, forse, potremmo cessare di essere i fondamentalisti hollywoodisti che a nostra insaputa siamo, limitandoci ad un più dignitoso ruolo di hollywoodisti moderati consapevoli. Il libro contiene anche una breve cronaca di un mio viaggio in Iran qualche anno fa, ad una conferenza sull'hollywoodismo, dove per la prima volta ho udito questo termine, questo vocabolo molto immaginifico che mi ha ispirato in questa ricerca. Su tale mio viaggio in Iran ho raccontato estensivamente in un mio precedento video, che se vi interessa vi invito a cercare, si trova online. Per il momento il fondamentalismo hollywoodista è pubblicato soltanto su Amazon, quindi in libreria non lo trovate. Se qualche editore serio volesse portarlo in libreria, si accomodi pure. Nel frattempo chiunque sia interessato se lo può procurare facilmente su Amazon.it con un paio di click ed in men che non si dica verrà raccapitato a casa vostra. Un ultimo consiglio che vi do, in quanto genovese questo, se volete risparmiare le spese di spedizione, ordinate anche un secondo libro, non necessariamente mio. A partire infatti da 19 euro di spesa globale godrete della spedizione gratuita. In pratica vuol dire che a parità di spesa o quasi, da genovese credo che sia meglio ricevere due libri invece che uno. Un'ultima raccomandazione. Dato che il fondamentalismo hollywoodista non esiste in libreria e nessun editore lo promuove, se l'argomento vi appassiona e non volete vederlo morire nel nulla, fate voi stessi qualcosa per farlo conoscere. Se avete un sito oppure un blog, parlate di questo libro ai vostri lettori, condividete questo video sul blog, sui social network. Ci sono e ci saranno anche miei altri video nei quali dirò altre cose sui contenuti del fondamentalismo hollywoodista. Li trovate su Pandora TV e su YouTube e sui miei siti, il mio sito personale www.roberto.info. Fate del vostro meglio per far girare queste informazioni e da questo modo avrete dato il vostro contributo alla lotta di liberazione delle nostre menti dal calidoscopio di sogni, miti, illusioni e fantasie che gli apprendisti stregoni dell'ollywoodismo ci hanno intrufolato in testa. Infine, un grazie sentito a Pandora TV, unica voce televisiva fuori dal coro in Italia oggi, senza la quale queste mie parole non sarebbero mai giunte a voi. Tutto questo detto, a tutti voi i migliori auguri di una felice de hollywoodismizzazione da Roberto Quaglia per Pandora TV.it Grazie a tutti.